Un vento che spinge. Questo ci fa immaginare Marco, perché il vento si vede anche se non ha spessore e non è un oggetto, perché muove, trascina, spinge, porta via. Il vento è lo spirito che sospinge Gesù nel deserto e lì nel deserto, che è il luogo della prova e della preghiera, Gesù rimane 40 lunghi giorni. Marco introduce all'improvviso Satana. Gesù e il demonio si affrontano nel deserto. C'è riservo su questo faccia a faccia che il dramma della storia, la sintesi di ogni opposizione, la polarizzazione massima, la tensione metafisica che come un lampo si scarica su questa nostra terra. Bestie selvatiche e angeli. Ora vediamo la scena popolarsi di queste creature. Il figlio di Dio non è solo dunque, ma consolato dalla loro presenza. Gesù vive con loro, non con animali domestici dunque, ma fiere, belve e angeli. C'è dunque profonda differenza tra il selvatico e il maligno. Non c'è essere ammaestrato che si accompagna a lui. Non c'è gattino, non c'è cane fedele, solo bestie selvatiche e presenze angeliche. Accanto a sé, Gesù ammette solamente l'artiglio rapace e il tocco divino. Che siano simili in qualche modo.